Parco del Castello e Vieli Mitrufe all'Aquila sono diventati posti pericolosi dove la gente non si sente più al sicuro, si spaccia, accadono sempre più spesso e bisogni di violenza e risse. I residenti di Via Castello allora si uniscono in comitato e scrivono al prefetto. Nel vicolo che collega Via di Salia al Castello c'è davvero di tutto. I residenti nella lettera parlano di spaccio da parte di nordafricani che si affrontano anche a suon di armi e bottiglie. Dei residenti sono stati minacciati, una situazione che dopo le 14 diventa esplosiva. Spacciatori che nascondono coltelli, droga e bilancini vari in quelle vie. Sanno chi siamo, le nostre case e le nostre vetture, scrivono i residenti al prefetto. Esasperati, hanno paura di ritorzioni, chiedono postazioni fisse, una maggiore vigilanza. Si fa portavoce delle loro istanze il consigliere comunale Enrico Verini. In realtà è da circa un anno che insiste sulla necessità di avere in centro pattuglie a piedi. Su Via Castello è una cosa incredibile perché la gente non può letteralmente uscire di casa, perché sotto c'è uno spaccio a cielo aperto di gente violenta peraltro perché nel momento in cui hanno avuto qualche rimostranza, sono stati anche minacciati. Hanno scritto al prefetto il 9 di settembre e oggi non è successo nulla. Io mi domando come sia possibile che in una città dove ci sono un gruppo di cittadini che vivono con un disagio di questo tipo, nessuno faccia niente. Allora non vorrei arrivare a pensare che in questa nazione finché qualcosa si muova uno debba chiamare Brumotti striscia la notizia. Io mi voglio rivolgere alle autorità, lo faccio anche attraverso questa intervista, al prefetto e al questore. Lì c'è una situazione pericolosa ed è inconcepibile che non ci siano le pattuglie a risolverla. È inconcepibile. Una questione portata anche all'attenzione del Consiglio Comunale. In settimana ci saranno altre iniziative. Da più parti la gente invoca anche la presenza dei militari in centro che potrebbero essere un supporto alle forze dell'ordine e un deterrente per queste bande. Strade sicure, come si fa in altre grandi città d'Italia, con i soldati con postazioni fisse, cosa che all'Aquila già accadeva nel dopoterremoto per evitare lo sciacallaggio nelle case distrutte.